La rivoluzione russa e, se riusciamo, anche lo stalinismo, altrimenti divideremo in due questo video, rivoluzione russa oggi e poi stalinismo un'altra volta. Beh, potremmo incominciare a dire che, prima di parlare delle rivoluzioni, dobbiamo cercare di capire in quale contesto, in quale humus, sono nate queste rivoluzioni. Molto particolare, sicuramente, quello dello Stato zarista dell'impero, quindi russo. Si trattava di uno Stato arretrato. All'inizio del XX secolo la Russia era uno degli Stati più arretrati d'Europa, sia economicamente che politicamente. Dal 1880, a dir la verità, c'era stato un certo sviluppo industriale, ma solo in poche aree, come Mosca, San Pietrogrado e altre zone, magari vicine alla Polonia. Era cresciuta effettivamente la rete ferroviaria, la transiberiana, ma la Russia restava essenzialmente un paese agricolo. Il 90% della popolazione viveva ancora nelle campagne in condizioni di miseria. Questo zar che vedete inquadrato, lo zar Alessandro II, stato zar dal 1855 al 1881, ha impresso un indirizzo reazionario al potere, che fu continuato anche dallo zar Nicola II, che è lo zar di cui parleremo soprattutto oggi. I Soviet. Attenzione, dobbiamo spiegare una cosa. Che Soviet significa semplicemente consiglio, assemblea. I Soviet nacquero all'inizio del Novecento, poi dopo ebbero espressione, soprattutto con la rivoluzione del 1905 e appunto con quella del 1917. Potevano essere riunioni di contadini, di operai, di militari o di cittadini, come questo che vedete in questa fotografia, c'è il Soviet di Pietrogrado. Con la rivoluzione d'ottobre i Soviet sarebbero diventati l'ossatura e le diramazioni del partito al potere, ma tenete presente che i Soviet sono stati utilizzati anche da regimi di destra addirittura, perché si trattava di una formula che poteva essere adattata ora ad una ideologia piuttosto che ad un'altra. Stavamo parlando quindi della retratezza del paese agricolo. All'inizio del Novecento dicevamo che gran parte della popolazione, quasi la totalità, dall'80 al 90% della popolazione viveva ancora nelle campagne. Quasi tutte le proprietà erano di pochissime famiglie aristocratiche o di pochi contadini arricchiti. I contadini arricchiti si chiamano culachi, li ritroveremo perché saranno fra i principali nemici di Stalin. La maggior parte dei contadini erano eredi degli ex servi della Gleba, liberati non da pochi decenni. solamente infatti nel 1861 avevano, lo zara Alessandro II aveva abolito la servitù della Gleba. Comunque disponevano di terre insufficienti. C'erano comunque forme primordiali, chiamiamole così, di comunismo agrario, il cosiddetto sistema dei Mir, ma come stavo spiegando la maggior parte della gente viveva nella miseria più assoluta. Per quanto riguarda l'industrializzazione, dicevamo, era un'industrializzazione che era avanzata con qualche problema. Certo, c'era stato l'intervento statale, anche un po' di capitale straniero proveniente dalla Germania, dalla Francia o dall'Inghilterra, ma si concentrarono in Russia alcuni degli aspetti più deleteri della rivoluzione industriale, come il lavoro minorile, i salari bassi e la mancanza di tutele sindacali, anche perché, come vi stavo dicendo, il regime era piuttosto rigido. Infatti era un po' il bastione dell'assolutismo la Russia. Si reggeva sull'aristocrazia, sull'esercito, sulla burocrazia e sulla chiesa ortodossa. Non è che non ci fosse stata opposizione nell'Ottocento. Era un'opposizione soprattutto populista. che cercava quindi di difendere i valori del mondo contadino slavo e che operava più che altro, visto che non c'era un Parlamento, operava attraverso il terrorismo. Alessandro II stesso fu ucciso nel 1881. Un po', come abbiamo visto, stava succedendo in quegli anni anche nel resto d'Europa e poi anche, insomma, anche una zarina fu uccisa, quindi sicuramente, diciamo, c'erano dei metodi che possiamo dire ancora primordiali. Piano piano però si andava costituendo un'opposizione di carattere socialista. Questi partiti per il momento operavano nella clandestinità. Oltre al partito costituzionale democratico, detto anche partito cadetto, di orientamento liberale, che propugnava una monarchia costituzionale, si impose il partito chiamato socialdemocratico russo, sulla scorta di quello che vi ricordate era avvenuto sin dal 1875 in Germania con il partito socialdemocratico tedesco, che era il più importante partito dei lavoratori europei. Si rifaceva la dottrina di Karl Marx e proponeva una rivoluzione che avrebbe portato al potere la classe operaia. Infatti, in questo partito prevalevano i bolshevichi, come Lenin, che già nel 1902 aveva scritto un testo fondamentale, relativo appunto all'applicazione del marxismo anche in Russia, intitolato che fare. La domanda che fare aveva una sola e semplice risposta, fare la rivoluzione. Dicevamo quindi di Lenin che apparteneva al partito socialdemocratico alla maggioranza, detta appunto dei bolshevichi, che vuol dire semplicemente quelli della maggioranza, che stavolano instaurare subito il socialismo, coinvolgendo oltre agli operai anche i contadini, mentre invece i menshevichi, e infatti i menshevichi vuol dire quelli della minoranza, sostenevano che il paese fosse troppo arretrato perché potesse avvenire una rivoluzione socialista. Occorreva prima attuare una rivoluzione borghese che modernizzasse il paese e solo dopo lottare per instaurare il socialismo. E' l'eterna scissione che c'è, l'abbiamo visto anche in tanti altri partiti europei, tra la corrente rivoluzionaria massimalista da una parte e la corrente riformista dall'altra. Questo venne alla luce, in maniera palese, nel congresso del 1903 del Partito Socialdemocratico. Ecco, nel 1945 ci fu la guerra russo-giapponese, con delle sconfitte tremende dell'esercito russo e questo portò anche a gravi ripercussioni sulla popolazione. Ecco quindi che la popolazione manifestò. Dovete tenere presente che queste manifestazioni di per sé non volevano assolutamente essere manifestazioni violente, anzi addirittura una di queste manifestazioni fu guidata da un pope, quindi da un sacerdote ortodosso. L'intento era solo quello di sensibilizzare anche lo zar affinché venisse incontro ad alcune richieste del popolo. Ma lo zar sguinzagliò le forze dell'ordine contro i manifestanti e fu ordinato proprio di sparare contro i manifestanti. Ecco così la famosa Domenica di Sangue del 22 gennaio del 1905. Se non sbaglio questo quadro fu addirittura realizzato da Vladimir Majakowsky. Se non è un omonimo è il famoso poeta di cui abbiamo parlato quando abbiamo fatto la diretta appunto su Majakowsky. Questa è la rappresentazione della manifestazione che si era diretta verso il Palazzo d'Inverno, nel Palazzo del Potere, quella Domenica di Sangue del 22 gennaio del 1905. Nel 1905 quindi una repressione violenta oppresse nel sangue questa manifestazione con i feroci scontri di strada, con i rivoluzionari. In realtà già lo zar stava incominciando a concedere qualcosa ai manifestanti. È il cosiddetto manifesto d'ottobre del 1905. Il manifesto d'ottobre consentiva l'istituzione di una costituzione e di una duma legislativa, quindi in buona sostanza di un Parlamento. Ma i manifestanti non erano soddisfatti di queste concessioni dello zar. I sovietici, o dire quelli che appartenevano ai soviet, ricordate le assemblee dei consigli, respinsero le concessioni dello zar e così ci furono questi aspri combattimenti di strada che portarono poi nel gennaio del 1906 alla fine di questa repressione, una fine estremamente violenta. Rimase comunque, alla fine di tutto questo, rimase la duma, cioè rimase questo Parlamento russo col compito di controllare e completare quello che era l'operato dello zar, ma i suoi poteri in realtà erano molto ridotti. Lo zar poteva sciogliere ogni volta che voleva la duma, nel momento in cui per esempio la duma votava contro il suo parere. Di fatto poi, oltretutto, in questa duma erano rappresentati soprattutto i centri più ricchi. Infatti il voto dei centri più ricchi valeva di più rispetto al voto dei contadini, 500 volte di più se si trattava per esempio di un ricco proprietario. Ecco, vorrei parlarvi adesso di un personaggio un po' particolare che assurse, scusate, volevo dire, un po' alle cronache in questi primi anni del 900, soprattutto nel 1915-1916. Si tratta di Rasputin. Rasputin era essenzialmente un monaco, un mistico, un santone, un taumaturgo, che con la scusa di guarire dall'emofilia il figlio dello zar, riuscì a intrufolarsi nelle stanze del potere come consigliere dello zar, fino al punto di suscitare l'invidia e l'odio di alcuni nobili che, cospirandosi, lo uccisero appunto nel 1916. Sta di fatto che anche questo personaggio di Rasputin è la dimostrazione di come il re, scusate, volevo dire lo zar, navigasse a vista, senza, cioè non sapesse dove arrampicarsi per trovare qualcuno che potesse corroborare la sua autorità, la sua autorevolezza, che era andata mano mano scemando, anche ovviamente per come si era comportato, l'abbiamo visto reprimendo così cruentemente ogni tipo di manifestazione o di dissidio. L'impatto della Prima Guerra Mondiale. Lo zar era stato quasi costretto a partecipare, che si era imparentato con il Kaiser Guglielmo II e anche con il re d'Inghilterra, se non sbaglio. Di fatto le alleanze, le circostanze lo costrinsero a partecipare alla guerra. La guerra stava andando in maniera abbastanza disastrosa. È vero che i russi avevano anche sconfitto in alcune battaglie, gli austriaci e i tedeschi, ma poi c'era stata una controffensiva e i tedeschi, gli austriaci, soprattutto grazie ai loro mezzi, tecnologie diciamo militari decisamente superiori a quelle dei russi, stavano mettendo a dura prova l'esercito russo. Pensate che nel 1917 la russi aveva già perso 2 milioni di soldati e anche parecchi territori. Inoltre la retratezza economica non consentiva di impegnarsi ancora in questo conflitto così tanto lungo. I costi della guerra e gli insuccessi resero lo zar sempre meno popolare. Persino la chiesa ortodossa che lo aveva sempre appoggiato iniziò a criticarlo, anche per l'influenza sullo zar di personaggi come quel santone, quel sedicente guaritore che tra l'altro aderiva ad una setta non ortodossa di Rasputin. La situazione era tale che nel febbraio del 1917, in realtà poi siccome in Russia vigeva il calendario ortodosso, questo si verificò anche all'inizio di marzo, si moltiplicarono gli scioperi e le manifestazioni perché gli approvvigionamenti di cibo stavano diventando impossibili. Grande il logoramento imposto dal conflitto mondiale e notevoli le sconfitte che si stavano susseguendo. Così lo zar impose all'esercito, ancora una volta, di reprimere ogni tipo di dissidio, di sciopero, di manifestazione. Sta di fatto che però proprio in questo marzo, tra virgolette febbraio del 1917, le truppe incaricate a Pietrogrado della repressione, invece di indirizzare le loro armi contro gli insorti, fraternizzarono con loro. Nicola II, in breve tempo, fu costretto ad abdicare. La Duma lo sconfessò e così si formarono due governi. Il primo fu retto dal principe Lwov, ma durò poco tempo. Dopodiché diventò capo del governo Kerensky. Kerensky, come Lwov del resto, cercava di continuare la guerra, di mediare, era infatti portavoce di un pensiero repubblicano moderato. Sta di fatto però che il persistere a combattere, a restare nella prima guerra mondiale, stava rendendo estremamente difficoltosa la situazione della popolazione. Disperati, quindi, loro si affidarono a quello che forse sembrava veramente il loro portavoce, Lienin. Abbiamo parlato prima di Lienin e del suo primo libro Che fare, ma non abbiamo detto che lui, poi anche in seguito agli eventi dei primi anni del Novecento, fu costretto ad essere esiliato in Svizzera. Proprio in quel 1917 si crearono le condizioni perché prendesse un treno, qui vedete addirittura una fiction, un film che potete vedere su Rayplay intitolato proprio il treno di Lienin. Stavo dicendo quindi che si crearono le condizioni perché potesse prendere questo treno e che lo conducesse in Russia. Ovviamente il treno, partendo dalla Svizzera, doveva poi attraversare vastissimi territori occupati dai tedeschi. Ebbene i tedeschi non fecero nulla per fermare questo treno, per fermare Lienin. Anzi, aprirono i loro valichi, le loro strade ferrate. Perché? Perché intuivano che forse Lienin, tornando in Russia, avrebbe potuto destabilizzare il governo russo che continuava a essere guerra fondaio e quindi continuava ad essere in guerra con la Germania. Qui potete vedere proprio invece una fotografia, quello prima era un attore, una fotografia di quando Lienin scese da questo treno acclamato proprio dalla folla. Siamo nell'aprile del 1917 ed è proprio in questo aprile che lui elaborò le cosiddette tesi di aprile. Quegli erano i punti principali, i punti fondanti di queste tesi. Primo, tutto il potere ai Soviet. Si può passare alla rivoluzione proprietaria senza attendere il completamento della rivoluzione borghese, come pensavano i menscevichi, ma oserei dire anche Marx. Insomma, attraverso questi scritti Lienin, quindi, fa una specie di sua interpretazione del marxismo. Ricorderete infatti che Marx diceva che effettivamente per arrivare alla rivoluzione proletaria si doveva passare appunto dallo stato borghese e poi anche abbattere questo stato borghese. Ebbene, Lienin dice che non c'è bisogno che in Russia si passi da uno stato essenzialmente assolutista, poi ad uno borghese, prima di arrivare ad uno stato socialista. Si può arrivare direttamente ad uno stato socialista. Poi ancora, nazionalizzare le terre, quindi la terra ai contadini, le fabbriche agli operai, la pace tra i popoli. Quindi, profondamente contrario alla partecipazione della Russia nella Prima Guerra Mondiale, in questi suoi discorsi, nelle tesi di aprile, eccetera, andava appunto dicendo che uno dei suoi scopi era anche quello di firmare una pace con i tedeschi e quindi di far uscire la Russia dalla guerra. La guerra era qualcosa di imperialista. La guerra era voluta dai potenti, appunto da questi imperialisti, da questi imperi, lo Zar e gli altri imperi che poi lottavano fra di loro per i loro interessi, sulle spalle dei poveracci, poveri soldati che andavano a morire e la povera gente che in patria invece moriva di fame. A questo proposito, l'ultima delle sue tesi fondamentali era quella di dar da mangiare a tutti, quindi l'egualitarismo, fare in modo che tutti avessero lo stesso, lo stesso stipendio, lo stesso tozzo di pane, che lo Stato doveva garantire a tutti quanti. Insomma, un'idea di comunismo sintetizzata in queste tesi di aprile. Ecco, Lenin incontrò sempre di più il favore del popolo. Erano queste infatti le attese del proletariato, le attese quindi degli operai, dei contadini. Nell'estate il governo Kerensky mostrò la sua debolezza. L'offensiva militare, promossa nel luglio di quel 1917, fu davvero un fallimento. A settembre Kerensky non si mostrò in grado di difendersi da un tentativo contro-rivoluzionario del generale Kornilov. Anzi, addirittura Kerensky chiese l'appoggio dei bolshevichi per fermare un colpo di Stato di destra. E questo, ancora di più, fece aumentare la fiducia del popolo nei confronti dei bolshevichi, nei confronti insomma di Lenin e dei suoi seguaci. Alla vigilia del congresso dei Soviet, i bolshevichi assaltarono la sede del governo e conquistarono il potere, appunto, ancora una volta, secondo il calendario ortodosso, in ottobre, ma di fatto in giornate che sarebbero le primissime giornate del novembre di quel 1917. Ma noi la ricordiamo, appunto, come rivoluzione di ottobre. Anche se i bolshevichi erano minoritari, si rifiutarono di venire a patti con i menschevichi e i social rivoluzionari. Il nuovo governo ebbe come principali esponenti Lenin e Trotsky che avevano guidato i bolshevichi all'assalto del palazzo d'inverno. Tra l'altro era stato un assalto non particolarmente cruento. Quindi il palazzo del potere cadde nelle mani di questi rivoluzionari senza che ci fossero state grandi resistenze. Lenin e Trotsky insieme abolirono la grande proprietà fondiaria, iniziarono ad avviare le trattative di pace con la Germania che si risorsero però dopo un po' di mesi. Nel frattempo, già nel periodo, diciamo, del governo provvisorio di Kerensky, lo Zara e la sua famiglia erano stati confinati a Ekaterinburg. Il 17 luglio del 1917, ormai era questo il periodo in cui, come abbiamo spiegato, i bolshevichi stavano assumendo sempre più potere all'interno della Russia ancora pre-rivoluzionaria e furono proprio loro, quindi i bolshevichi, a giustiziare lo Zara e la sua famiglia. Nel frattempo, Lenin prese sempre più le redini del popolo e del potere. Verso gli ultimi mesi del 1917 si prepararono le elezioni per un'assemblea costituente. Le elezioni però non diedero la maggioranza ai bolshevichi, ma diedero la maggioranza a una specie di partito dei contadini che era decisamente più moderato rispetto ai bolshevichi. E allora, dopo la prima, primissima riunione di questo Parlamento costituente, nel 18 gennaio del 1918, ci fu un assalto dei bolshevichi a questa riunione, a questo Parlamento, che venne definito così Roccaforte della Borghesia. Rovesciarono questo Parlamento, resero quindi inutili queste elezioni che si erano appena svolte e crearono quindi presupposti per la guerra civile, perché perseguitarono gli oppositori. Venne creata infatti una polizia politica cosiddetta cieca, con ampi poteri discrezionali. E tutto questo provocò, vi dicevo appunto, una guerra civile. Dei bolshevichi, da una parte i rossi, l'armata rossa, e dall'altra parte i bianchi, che raccoglievano sia i delusi del radicalismo dei bolshevichi, magari repubblicani, però delusi di questo radicalismo, e sia i nostalgici del potere dello Zara. Ecco, qui vediamo invece una manifestazione della Guardia Rossa, proprio in quei mesi caldi, della rivoluzione. Tra l'altro il governo di Lenin, di Trotsky, eccetera, pose sotto il controllo dello Stato la produzione agricola e la produzione industriale. Quindi ci fu una prima fase in cui ci fu una specie di statalizzazione, nazionalizzazione di tutte le imprese. Dicevamo che nel 1918 scoppia questa guerra civile. La Russia attraversa enormi difficoltà economiche. Ci saranno milioni e milioni di morti per fame. L'armata rossa subisce l'attacco delle armate bianche, che sembrano avere sopravvento anche perché sono sostenuti dagli eserciti dell'Intesa e della Polonia. Insomma, i francesi e gli inglesi non stanno gradendo, per esempio, il fatto che, come avverrà appunto in quel marzo del 1918, si stipoli una pace fra russi e tedeschi. Lo considerano una specie di tradimento. Abbiamo quindi nel 1918, intorno al marzo, la pace di Brest-Litovsk e in questa pace la Russia accetta tutte le condizioni che sono imposte dalla Germania e quindi lascia alla Germania vastissimi territori, quali appunto quelli della Finlandia, della Polonia, della Bielorussia, dell'Ucraina. Tutto questo a condizione di poter finalmente concludere la guerra con la Germania. I tedeschi si sfregano le mani e, come ben sappiamo, sfrutteranno, hanno già iniziato a sfruttare alla fine del 1917, di fatto, la defezione dell'esercito russo sul fronte orientale. Per cercare di sferrare l'ultimo attacco alle truppe dell'intesa, che però, come ben sappiamo, non riuscirà perché alla fine comunque i tedeschi perderanno la guerra e quindi riperderanno tutti questi territori, tutte queste regioni che i russi avevano concesso nella pace di Brest-Litovsk, anche perché i russi stessi poi si riapproprieranno di alcune di queste zone, come l'Ucraina, la Bielorussia, verranno create delle repubbliche socialiste sovietiche anche in questi territori. Alla guida dell'armata rossa si pose Trotsky, che fu inflessibile contro l'armata bianca. Qui lo vedete, per esempio, raffigurato come una sorta di nuovo San Giorgio che ammazza il drago. Il drago sarebbe appunto l'armata rossa, mentre Trotsky sarebbe il buon cavaliere che porta avanti i suoi ideali distruggendo il nemico. Ecco qua una foto appunto di Trotsky. Trotsky, come poi vedremo, porterà avanti un discorso di possibile internazionalizzazione della rivoluzione russa, cioè di espansione della rivoluzione anche in altri paesi. Abbiamo già fatto una diretta sul libro Il Dottor Zivago di Boris Pasternak, che è proprio ambientato in quegli anni della guerra civile russa tra il 1918 e il 1922. Ecco, vediamo ancora una manifestazione e questo ci dà l'occasione di parlare un po' della nuova politica economica. C'erano stati talmente tanti morti anche a causa di questa guerra civile che bisognava cercare di imporre una svolta. Dall'iniziale statalizzazione assoluta dei primi tempi della rivoluzione si passò quindi ad una nuova politica economica che permetteva in modo parziale anche la proprietà privata e soprattutto la presenza sul mercato delle imprese russe, perché questo avrebbe potuto favorire una ripresa economica. Ecco, questa fu la nuova politica economica di Lenin. Sicuramente però già in questi anni abbiamo appunto una tendenza al federalismo e un netto prevalere del potere centrale, una piena identificazione dello Stato con il partito unico che in quegli anni assunse il nome di partito comunista. Lenin nel 1922 fu colpito da una malattia cerebrale e morì nel 1924. Il suo corpo venne mummificato ed esposto alla pubblica venerazione. Ecco qui vedete proprio la cartina dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nata appunto in quel 1922 ad opera di Lenin, raccoglieva tutte le Repubbliche Socialiste Sovietiche che si erano create anche in varie regioni persino del Caucaso come la Georgia oppure addirittura asiatiche. Ecco il corpo mummificato di Lenin di cui vi stavo parlando prima ed ecco una fotografia di Trotsky che era stato eroe della rivoluzione ed eroe della guerra civile. Ecco effettivamente quando Lenin impose questa nuova politica economica sia Trotsky sia vedremo anche Stalin la criticarono in parte. Quindi Lenin alla fine non indicò con molta precisione quale sarebbe stato il suo successore perché non si vedeva perfettamente rispecchiato né in Trotsky per alcune sue idee diverse né in Stalin per i suoi metodi. Lo riteneva piuttosto grossolano. Lenin, abbiamo letto alcuni suoi diari segreti, riteneva un po' grossolano il modo di agire di Stalin. Ma comunque c'erano stati dei dissidi. Sta di fatto comunque che Stalin era stato più furbo, era stato in grado di farsi nominare comunque quando era ancora vivo Lenin segretario del partito comunista. Mentre invece Trotsky rimase sempre un po' più solo ecco perché aveva meno peso nel partito, era emarginato. Poi fu espulso dal partito comunista sovietico, espulso dall'Unione Sovietica e iniziò una sorta di esilio. Tra l'altro riuscì a scampare ad alcuni attentati fatti da sicari stalinisti ma l'ultimo attentato nel 1940 in Messico riuscì perfettamente. Un fanatico lo uccise a picconate in testa nel 1940. Le idee di Trotsky comunque non morirono con lui. Le sue idee, dicevamo, le abbiamo ricordato anche prima, erano quelle di una diffusione della rivoluzione anche in altri stati, in altri paesi. Effettivamente comunque poi ci fu una diffusione della rivoluzione in altri stati nei decenni successivi. Parliamo invece adesso di Stalin. Qua vediamo una foto di Stalin da giovani. Come abbiamo detto, lui aveva aderito ai bolshevichi sin dal 1903, insomma sia da tantissimi anni aveva aderito appunto a questa parte un po' radicale del partito socialista. E aveva seguito tutte le fasi della rivoluzione, della guerra civile, un po' da comprimario. Poi divenne invece protagonista alla fine della guerra civile, quando riuscì a farsi nominare, dicevamo, segretario del partito comunista. Trotsky era sicuramente il suo principale rivale, ma alla morte di Lieni riuscì Stalin a imporsi nettamente. Per cui riuscì anche a eliminare i suoi rivali. Fu molto duro e crudo con i suoi rivali all'interno del partito anche. La maggior parte delle volte li condannò o alla morte oppure ad autosuicidarsi, oppure a un suicidio tra virgolette indotto o imposto. Qual'era la politica propugnata da Stalin? Si trattava della politica di un'economia pianificata. Quindi leggermente, anche in questo caso, un po' ritornò indietro a quella che era la teoria originaria, insomma, dell'assoluta abolizione della proprietà privata. Quindi cancellò la NEP, la nuova politica economica di Lieni, e incominciò invece dei piani economici, quindi i famosi piani quinquennali, la famosa economia pianificata. A partire dagli anni un po' non immediatamente seguenti alla morte di Lieni, quindi verso la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, l'economia venne guidata dallo Stato che incominciò a stabilire i piani quinquennali e in essi gli obiettivi produttivi agricoli e industriali che dovevano assolutamente essere raggiunti. Gli sforzi immediati furono concentrati nella collettivizzazione dell'agricoltura e nel potenziamento dell'industria, soprattutto però l'industria pesante. Ecco, non l'industria leggera. Questo cosa voleva dire? Voleva dire, per esempio, che la povera gente russa non poteva avere magari tutti i vestiti di cui aveva bisogno, perché invece di favorire, che ne so, l'industria tessile, si favorì, dicevamo, l'industria pesante, quindi l'industria dell'acciaio, l'industria anche delle armi, se vogliamo. Ecco, qui vediamo alcune citazioni delle frasi famose di Stalin. Per esempio, le idee sono più potenti delle armi, oppure non permetteremo ai nostri nemici di avere armi, perché dovremmo lasciare loro delle idee, quindi, che sono come delle armi? Ecco, questo ci fa capire però qual era anche il piano di Stalin, cioè impedire che la gente potesse pensarla diversamente rispetto al partito. Ancora altre sue frasi. La morte è la soluzione a tutti i problemi. Questa frase era una di quelle frasi che lui suggeriva ai suoi ex amici, che in qualche modo si ponevano come suoi oppositori e che quindi erano, come stavamo dicendo prima, indotti a morire o ad accettare, meglio spesso, la condanna a morte, che era inevitabile in questi casi. Nominò persone a lui leali per incarichi importanti del partito, usando la sua posizione per rafforzare chi lo aiutava a prendere, mantenere il potere. Divenne in buona sostanza il vero e proprio dittatore della nazione. A questo punto possiamo parlare di Stalinismo, che è qualcosa di ben diverso rispetto al marxismo o al marxismo-leninismo. Infatti c'era già un po' il culto della persona, diciamo la verità, anche quando c'era Lenin, ma fu ancora di più accentuato con Stalin e quindi l'accentramento del potere, la dittatura personale. Lui per esempio, ancora una delle sue frasi famose era questa, non mi fido di nessuno, nemmeno di me stesso. Ci fa capire subito come si creasse intorno a lui un clima di sospetto, un clima di sfiducia e fossero favoriti solo ed esclusivamente quelli che lo venerassero quasi come fosse davvero un nuovo sovrano assoluto. Di fatto si configura un tipo di sistema che non è né il puro marxismo né tantomeno il marxismo-leninismo. Uno stalinismo che ha caratteristiche sue proprie. Una, l'abbiamo già detto, è quella dei piani quinquennali. Qui vedete per esempio un manifesto in cui si esalta la fermezza di Stalin ma anche i suoi progetti futuri. Quindi simbolicamente lui sostiene un bambino con la bandiera dell'Unione Sovietica ad indicare quelli che sono i grandi progetti del futuro che ha Stalin. Oppure altri manifesti come questo tendevano a sottolineare il fatto che ogni contadino aveva la possibilità di vivere finalmente in un modo umano. Questo è un manifesto del 1934. Ecco, noi abbiamo la famiglia del mulino bianco, invece gli stalinisti hanno la famiglia del kolkoz. Ah sì, il kolkoz era una specie di unità agricola autogestita che viene proposta e poi oserei dire imposta a livello locale e che doveva rappresentare proprio la realizzazione del socialismo ideale. Qui c'è una frase in russo che adesso vi dico perché ovviamente noi non sapremmo leggerla che dice più o meno contadina vieni a vivere nel kolkoz, come dire realizza il tuo sogno di famiglia, di benessere addirittura, qui vedete un giradischi, vivendo nel kolkoz. Per quanto riguarda l'industria è vero che Stalin riuscì effettivamente a portare avanti, a sviluppare alcuni tipi di industria. Per esempio, alcuni beni come le macchine furono prodotti in grandi quantità in questo periodo, mentre invece altri beni che potevano essere più favorevoli a quello che erano i bisogni del popolo invece furono accantonati e messi da parte. Anche i lavoratori stessi furono messi da parte perché vivevano in povertà, lavoravano per lunghe ore, il comunismo non offriva alcuna promessa di soldi in più se uno si dava da fare più degli altri, non c'erano promozioni se una persona si sottoponeva a un duro lavoro. L'unico tipo di incentivo era quello dei riconoscimenti del partito e quindi fu esaltato, per esempio, un lavoratore come Stakhanov era il lavoratore ideale dello Stato sovietico perché continuava a lavorare in modo indefesso, continuo, senza cercare rivendicazioni, aumenti di salari o promozioni. Ci fu anche una riforma, ecco qui vedete per esempio effettivamente si costruirono ancora altre ferrovie però sempre anche per favorire quell'industria pesante che era un po' il cuore del progetto industriale di Stalin. Per quanto riguarda l'agricoltura ci fu comunque una profonda riforma agraria, invece delle fattorie indipendenti di proprietà dei contadini, Stalin collettivizzò di nuovo e stavolta totalmente tutta quanta l'agricoltura. Tutti lavoravano insieme terreni di proprietà statale e nessuno aveva terreni privati. Questo comunque non riuscì a risolvere il problema della fame, anzi in quegli anni ancora di più si moltiplicarono i milioni, i milioni, i milioni di persone che morirono di fame. E molti contadini per questo e per una certa insoddisfazione, soprattutto erano insoddisfatti poi i piccoli proprietari terrieri, i piccoli medi, i kulaki, protestarono accumulando i raccolti e uccidendo il bestiame. La protesta contribuì ancora di più al peggioramento delle condizioni di vita, una carestia che uccise milioni di sovietici all'inizio degli anni trenta e portò poi alla deportazione di milioni e milioni di contadini, soprattutto poi i kulaki furono deportati nei campi di concentramento siberiani. Le politiche di Stalin riuscirono ad aumentare con successo la produzione industriale. Il suo governo fece appello alla lealtà nazionale, ma Stalin usava soprattutto la paura della punizione come deterrente anche tra i politici del partito. Ne fece fuori alcuni che hanno stati fra i suoi principali collaboratori come Lev Borisovich Kamenev e Nikolai Bukharin. Si moltiplicarono le repressioni, ecco quindi la polizia, addirittura nacque il KGB, oltretutto i servizi segreti, l'eliminazione di tutti quelli che fossero percepiti come una minaccia, come appunto vi dicevo i kulaki, oppure anche le persone che continuavano a seguire una religione ortodossa o che avevano un pensiero divergente rispetto al potere. Persino abbiamo visto i leader furono giustiziati, anche ufficiali, militari, processati e condannati per crimini. Trotsky fuggì in Messico e lì fu assassinato dei sicari staliniani. Stalin uccise così milioni e milioni di suoi concittadini prima della fine del suo regime che avvenne proprio solo ed esclusivamente con la sua morte nel 1953. Qui vediamo alcune fotografie scioccanti dei morti, delle fosse diciamo di morti nei campi in Siberia e del lavoro disumano che dovevano svolgere questi prigionieri, campi forzati, addirittura sotto la neve e temperature rigidissime di inverno che portarono tantissimi a morire per queste condizioni. Come del resto abbiamo visto nei testi di Shalamov, che abbiamo letto i famosi racconti della Colima, vi ricorderete, e anche nei testi di Solzhenitsyn. Anche se Solzhenitsyn ovviamente parla anche di operazioni nei gulag sovietici, perfino nel periodo post-staliniano, poiché comunque non tutti i campi furono dismessi con la morte di Stalin, continuarono ad esserci la persecuzione dei dissidenti. Mentre insomma Stalin divenne sempre di più oggetto di un vero e proprio culto, si procedette all'eliminazione di ogni linea di opposizione al capo. Vaste furono le cosiddette purghe staliniane, cioè le epurazioni che colpirono la dirigenza storica del partito attraverso processi pubblici sulla base di accuse false e di confessioni estorte e tutti coloro appunto che, intellettuali per esempio, anche intellettuali che addirittura erano socialisti e che si videro quindi perseguitati, come lo stesso Shalamov, vi ricorderete, che era un poeta, da Osip Mandelstal, per esempio, di cui abbiamo parlato, o meglio, era proprio Osip Mandelstal, il poeta perseguitato, di cui parla Shalamov nei suoi scritti. Quindi, di sicuro, il regime staliniano, il regime russo, tradì proprio quelle che erano state alcune delle tesi di aprile di Ilien, quindi della libertà del popolo, la libertà di espressione del popolo e anche il pane a tutti, perché di fatto gettò gran parte del popolo nella miseria, nella fame e quindi nella carestia e perseguitò tutti quanti gli oppositori politici con la politica appunto della deportazione nei campi, nei gulag, sparsi, come vedete in questa cartina, in tutta quanta la Russia. Maurizio Lazzarini, buonasera professione nella contraposizione Stalin-Trotsky, dove si collocò Antonio Gramsci? Oh maledizione! Maurizio ha fatto una domanda quando ormai io stavo uscendo dalla diretta. Diciamo che Antonio Gramsci per lo più era un comunista, pertanto seguiva maggiormente le idee di Stalin. Questo avvenne sempre, diciamo, per decenni e decenni, infatti, i comunisti, i comunisti italiani erano decisamente staliniani o quantomeno favorirono il regime staliniano. Ma di questo comunque parleremo magari facendo una diretta sulla terza internazionale.